Bentornati con le previsioni a cura di Meteo One. Nel weekend e nei prossimi giorni avrà inizio una parentesi dal clima stabile e niente. Non mancheranno occasioni per la formazione di nebbie nelle ore notturne. Ma vediamo nel dettaglio il tempo su Puglia e Basilicata per venerdì 9 novembre. Al mattino residua instabilità sul Salento con isolati rovesci lungo le coste adriatiche del Brindisino e Leccesa. Nel resto della giornata il tempo risulterà più stabile e soleggiato soprattutto su Puglia Centro-Settenzionale e Basilicata. In ottata non si escludono banchi di nebbia su Arco Ionico e Valle Lucane. Per quanto riguarda le temperature stazionarie o in live calo solo le minime, fresco anche a metà giornata su pianure e coste con occasionali punti di 20 gradi su Tavolire e Tarantino. Ancora deboli venti di maestrale in mattinata sulle coste adriatiche. Dal pomeriggio rotazione ed eventi dei quadranti meridionali. Per quanto riguarda i mari, mossi o poco mossi il canale d'Otranto e il basso Ionio da calmi a poco mossi i rimanenti mari. Per la foto del giorno oggi ringraziamo Antonio Marangi che è immortale ai colori dell'autunno racchiusi in questa suggestiva foto dalle campagne della Valle Mitria. Inviate la vostra foto del giorno nelle nostre pagine facebook e al numero whatsapp. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.